Equilibri ancora precari e una quadra difficile da trovare. Il centrodestra in Campania è ancora un cantiere aperto. Dopo l'accordo su Maresca a Napoli si lavora ancora all'intese in altre città importanti chiamate al voto amministrativo. Matteo Salvini forza la mano e martedì sarà di nuovo in Campania con un tour a Caserta e a Campagna nel Salernitano. Nella città capoluogo la Lega punta su Giampiero Zinzi. L'aspirante sindaco del Carroccio deve però fare i conti con le resistenze di Fratelli d'Italia e Forza Italia. La visita di Salvini oltre che per rafforzare il partito sul territorio servirà anche a rilanciare la campagna referendaria per la giustizia. Ma il centrodestra è diviso anche a Salerno dove Fratelli d'Italia questa mattina ha presentato la candidatura di Mimmo Ventura. Il consigliere uscente dopo anni di militanza tra i deluchiani ha scelto il partito di Giorgia Meloni. Per il coordinatore regionale Antonio Iannone è stata l'occasione per una riflessione a margine proprio sulle difficoltà che attraversa il centrodestra in Campania. Sapete bene che si tratta di una tornata elettorale che coinvolge 1200 comuni e quindi capirete che per non parlare un linguaggio ipocrita che si tratta anche di una questione di equilibri tra i partiti perché questa tornata ha un valore politico di carattere nazionale. Poi non nascondiamo le difficoltà ci sono stati anche momenti di forte contrasto interno alla coalizione perché Fratelli d'Italia è un partito che coerentemente sta all'opposizione.